Musica Un rogo è divampato questa mattina intorno alle 6.30 La mattina intorno alle re liberté di Mortara, fabbrica che si occupa di rifiuti pericolosi e di metalli Il prefetto ha lanciato l'allarme di ossina e anche per questo domani le scuole a Vigevole Mortara resteranno chiuse Aiutava le anziane con la spesa ma aveva a casa 5 kg di cocaina e altri stupefacenti Il 41enne marocchino che aveva avvicinato per sua base logistica nell'appartamento in cui viveva in Vio Lorienteggio è stato arrestato Una grande cena di beneficenza per 900 persone inaugurerà i festeggiamenti per i 150 anni del salotto di Milano. Già venduti tutti i biglietti, 300.000 euro andranno alla Caritas. Schiacciato da un braccio meccanico all'interno della ditta di Settimo Milanese in cui lavorava, è morto sul corpo un operaio 42enne di origini filippine e la terza morte bianca in tre giorni. Buonasera e buonasera anche dalla TGN. Benvenuti a questa edizione, lo avete sentito dai titoli. Questa mattina intorno alle 6.30 un rogo divampato a Mortara ad andare a fuoco rifiuti e metalli stoccati nell'area Redibertè. Sono state 12 le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute per domare le fiamme e il prefetto di Pavia ha invitato i sindaci della zona a emanare ordinanze per fare in modo che i cittadini restassero in casa, soprattutto con le finestre chiuse. Ma ci racconta tutto Jacopo Casoni. La paura si chiama diossina. Si aspettano conferme ma il pericolo sarebbe reale. Il rogo divampato stamane, poco dopo le 6, alla Eredibertè, un'azienda di Mortara nella Lomellina che si occupa dello stoccaggio e del recupero di rifiuti speciali, inerti e metalli, ha fatto scattare l'allarme. Il prefetto di Pavia, Tiglio Visconti, verso le 10 ha fatto il punto e ha pronunciato quella parola diossina spiegando di aver dato ordine a tutti i sindaci dei comuni nell'arco di 15 km da Mortara di fare in modo che i cittadini restassero in casa con le finestre chiuse. Il tutto a scopo precauzionale, aspettando i risultati delle analisi della qualità dell'aria effettuati da ARPA che verso le 11 e mezza ha terminato di posizionare le centraline per il rilevamento. Per alcuni inquinanti servono esami sofisticati. Bisogna aspettare, hanno detto dall'Agenzia regionale verso l'ora di pranzo. Ore di attesa, ma la colonna di fumo nero finita sui post di chi passava di lista a mane, in effetti, è tutt'altro che rassicurante. A Vigevano in tarda mattinata è comparsa una nuvola piatta e scura a bassa quota con il sindaco che ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle finestre e il divieto di raccogliere frutta e verdura dagli orti. Una mattinata convulsa con 12 squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti anche dal capoluogo Lombardo e da Vercelli, impegnate nelle operazioni di spegnimento, rese più difficoltose dai cali di pressione nelle tubature e dal numero esiguo di idranti presenti nell'area. Le autobotti hanno dovuto rifornirsi in quattro punti diversi di Mortara e in alcuni paesi limitrofi. Nelle immagini girate da un testimone e postate su Facebook si nota il cumulo di rifiuti in fiamme nello spiazzo dell'Aere di Bertè destinato allo stoccaggio, una montagna di scarti di ogni tipo, tra cui anche pneumatici, plastica e alluminio. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo, mentre è emerso che proprio oggi era prevista la visita ispettiva semestrale dell'ARPA presso lo stabilimento di Mortara. Questa sembra una coincidenza davvero assurda. Intanto comunque le autorità hanno disposto che le scuole a Mortara e Pavia domani che le scuole saranno chiuse, proprio per evitare qualsiasi tipo di rischio. Ora la cronaca, veniamo a Milano, aveva quasi 5 kg di cocaina in casa insieme ad altri stupefacenti. Questo è stato l'esito di una perquisizione di un appartamento in zona Lorenteggio, dove un marocchino di 41 anni aveva prontato la sua base per lo spaccio. Ma pensate, nella zona l'uomo era celebre, non in quanto possibile spacciatore, ma perché aiutava le anziane a fare la spesa. Una sorta di spacciatore gentiluomo. Vediamo. Un gentiluomo, sempre disponibile, pronto addirittura ad accompagnare alcune signore anziane del suo palazzo a fare la spesa. Peccato che dietro i sorrisi e i gesti così a modo, il 41enne marocchino arrestato ieri dagli agenti del commissariato Lorenteggio nascondesse un'attività di spaccio di tutto rispetto. In realtà, l'uomo è irregolare in Italia e ha precedenti specifici, come confermato dalla polizia durante l'odierna conferenza stampa. Nel 2015 ha scontato 4 mesi di carcere per il possesso di 5 kg di eroina. Lo hanno pedinato e dopo una serie di appostamenti, tra l'altro senza fare ricorso allo strumento delle intercettazioni, gli agenti sono entrati in azione. Appena rincasato, hanno bloccato l'uomo sull'uscio del suo appartamento, identificato dagli inquirenti come il covo principale dello spaccio nel quartiere. Perquisita la casa, è arrivata la conferma dei sospetti. Lì veniva tagliata e confezionata la droga. Ma il 41enne aveva anche un altro appartamento in uso nello stesso palazzo e perquisito anche questo vano, gli agenti hanno repertato quasi 4 kg di cocaina, 853 grammi di eroina, 90 di hashish, oltre a tre bilancini di precisione, 8.000 euro in contanti nascosti in un beauty case e tre cellulari. Tutti i panetti di stupefacente erano sigillati, infilati in palloncini e cosparsi di spray nasale al mentolo. Un trucco per depistare i cani, ha spiegato il dirigente Gianni Giammarusti, che ha ricevuto i complimenti del questore Marcello Cardona durante l'incontro con la stampa. Negli appartamenti gli agenti hanno anche rintracciato alcune agende contenenti la contabilità dello spacciatore, che è stato poi accompagnato a San Vittore. In corso gli accertamenti per cercare di risalire ai canali di acquisto e di vendita della droga. Adesso questo episodio, anche questo davvero particolare, perché un dirigente della Stie, che è l'azienda di trasporti pubblici dell'Alto Milanese, con sede a San Vittore Olona, questo è uno degli autobus appunto della Stie, pensate, aveva consegnato una lettera di richiamo con cui l'azienda contestava a un dipendente il mancato rispetto degli orari di lavoro. Ma per questo motivo questo stesso dirigente, che si chiama Vezio Guido Buono e ha 53 anni, è stato selvaggiamente picchiato e oggi lotta per sopravvivere in un letto d'ospedale all'ospedale civile di Legnano, dove lunedì è arrivato in pessime condizioni. L'autore del brutale pestaggio si chiama Filippo Mazzitelli ed è l'impiegato di 57 anni, addetto alla distribuzione dei biglietti rivenditori, a cui appunto era stato indirizzato il provvedimento disciplinare. In serata l'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Bustarsizio con la grave accusa di tentato omicidio. Mentre è morto questa mattina un operaio di origini filippine è schiacciato da un braccio meccanico, una pressa all'interno di una ditta di settimo milanese e il terzo decesso sul lavoro in tre giorni. In Italia le morti bianche sono state 591 nei primi sette mesi del 2017. Vediamo. Era l'alba, erano le 5 e mezza di questa mattina, un tonfo sordo e poi le grida disperate di quell'operaio rimasto schiacciato dal braccio meccanico di un tornio all'interno della Stuani SPA, ditta di settimo milanese che produce pistoni in acciaio e in plastica. L'allarma è scattato subito, i soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per il 42enne di origine filippina, residente a Milano, non c'è stato scampo. La dinamica è ancora da accertare, ma pare che l'uomo si sia trovato nel raggio d'azione del braccio meccanico che lo ha agganciato e schiacciato contro il macchinario all'altezza del petto. Stava finendo il turno di notte, stava svolgendo attività di manutenzione quando è stato vittima dell'incidente, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, con i carabinieri di Roche eseguiranno le verifiche sui macchinari coinvolti e sul rispetto delle norme di sicurezza. È il terzo decesso sul lavoro nel giro di tre giorni, un trend che ha spinto la FIOM a chiedere indagini approfondite alla magistratura prima di puntare il dito contro quella sicurezza sul lavoro che in Italia ancora latita. E le tute blu della CGL hanno anche dato i numeri di questa emergenza. Da gennaio a luglio del 2017, gli incidenti mortali sono stati 591, 29 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di questo operaio. Da quanto si è saputo, nel registro degli indagati è stato iscritto un amministratore della ditta, la Astuani, che produce componenti in acciaio e plastica. L'operaio è stato schiacciato da una grande pressa dopo essere entrato nel suo raggio d'azione e poi è morto sul colpo. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Ro in provincia di Milano. Il fascicolo per omicidio colposo, aperto dal PM di turno, passerà al Dipartimento Ambiente, Salute e Lavoro della Procura, coordinato dal PM Tiziana Siciliano. E invece, notizia arrivata da poco, l'Università Statale di Milano sta ancora valutando la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso degli studenti per l'introduzione del numero chiuso alle facoltà umanistiche. Lo rende noto l'Università, che però ha precisato come la situazione al momento sia complessa e fortemente condizionata dal nodo dei tempi. La preoccupazione dell'Ateneo sarebbe quella di garantire prima di tutto il corretto avvio delle elezioni, che dovrebbero partire alla fine di settembre. E questo potrebbe non essere compatibile con i tempi di un ricorso al Consiglio di Stato. Alla Statale non parlano quindi di un ripensamento, tanto che i legali stanno lavorando al ricorso, ma si guarda al fattore tempo. Se l'Ateneo dovesse decidere in via definitiva di non fare ricorso al Consiglio di Stato, nei prossimi giorni saranno riaperte le iscrizioni ai corsi delle facoltà umanistiche che oggi sono oggetto dell'ordinanza del Tar. E adesso una notizia che è a cavallo tra l'Italia e la Svizzera. Questa è la dichiarazione di un uomo davanti al giudice delle direttissime di Milano, un algerino arrestato ieri notte con l'accusa di tentato furto perché sorpreso da un abitante della zona della stazione centrale mentre rompeva il vetro di un'auto con targa Svizzera e lo vi stava dentro. Ed ecco, bene, quest'uomo è stato sorpreso sul colpo, è stato arrestato e davanti al giudice l'uomo ha detto io sono un bravo musulmano e perciò non faccio del male agli italiani. L'algerino ha sostenuto che aveva spaccato il vetro perché lui è senza fissa dimore, aveva freddo e quindi voleva entrare nella macchina per dormirci dentro. Poi alla domanda del giudice sul perché avesse scelto proprio un'auto con targa Svizzera l'uomo ha risposto appunto sono un bravo musulmano e proprio perché sono un bravo musulmano non voglio fare male agli italiani. Il provvedimento, il patteggiamento comunque si è chiuso con quattro mesi per l'algerino per il tentativo di furto. Quindi probabilmente pensava che fare del male agli svizzeri era più consono alla sua religione, non lo so. Comunque un caso curioso. Adesso andiamo a Palazzo Marino perché sono stati presentati oggi gli eventi per i 150 anni della Galleria Vittorio Emanuele II. Il momento pubblico aperto a tutta la cittadinanza il 15 settembre sarà preceduto da una cena il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas Ambrosiana e sono già stati venduti tutti i biglietti che erano 900. Ci racconta tutto Anna Maria Braccini. Come festeggeremo questo grande luogo simbolo di Milano? Già, come si festeggeranno i 150 anni del Salotto di Milano la Galleria Vittorio Emanuele II? Attraverso due momenti, come ha spiegato in conferenza stampa Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala. Accanto a lui Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana e Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Proprio perché il primo appuntamento fissato per le ore 21 di mercoledì 13 settembre sarà una grande cena di beneficenza con 90 tavoli allestiti nella galleria stessa in collaborazione tra il Comune e appunto Caritas e Confcommercio. I festeggiamenti proseguiranno poi venerdì 15 settembre con un evento pubblico aperto all'intera cittadinanza. Bello festeggiare i 150 anni della galleria, è doveroso però 300.000 euro che dovrebbero essere appunto il saldo netto tra i 900 più o meno paganti per 500 euro e le spese sono soldi che verranno dati alla Caritas e se chi li impiegherà è evidentemente laddove c'è più bisogno, quindi nelle periferie. Cerchiamo di non perdere mai occasione per rimanere fedeli al nostro modo di essere. Il menù della cena ideato dallo chef pluristellato Carlo Cracco sarà presentato e servito dai ristoranti della galleria, alcuni dei quali combiono anch'essi i 150 anni di vita e il ricavato sarà destinato all'iniziativa cena sospesa. I posti a sedere sono 900, quindi si presume una raccolta di circa 300.000 euro al netto di alcune spese e queste poi noi le utilizzeremo per la cena sospesa che è un'iniziativa che Caritas Ambrosiana insieme a Commercio e Comune di Milano promuove ormai dal lontano 2015 quando durante Expo avevamo coinvolto una trentina di ristoranti con i loro clienti lasciare un'offerta finalizzata all'aiuto delle persone disoccupate. Una curiosità è sicuramente intorno al menù di questa cena, ripeto il ricavato sarà devoluto alla Caritas, un menù ovviamente legato alla tradizione meneghina e quindi ci sarà ovviamente il risotto alla milanese con lo suo buco e l'antipasto a base di tuorlo d'uovo croccante mentre il dolce sarà curato dalla pasticceria Marchesi Prada. Quindi un pranzo, una cena sicuramente non leggerissima, diciamo così. Sala comunque oggi il sindaco ha parlato anche d'altro e ha parlato anche del problema della moschea a Milano, sapete che più volte il sindaco Sala si è espresso a favore di una moschea nel capoluogo Lombardo. Ecco, la dichiarazione di oggi è la seguente, devo ancora verificare, domani ci vedremo con i nostri uffici, ma ribadisco la mia idea. A Milano i luoghi di culto sono tanti, piccoli e a regole date molto meglio che ci siano luoghi di culto visibili e trasparenti. Questa è appunto la risposta del sindaco sulle prossime mosse del comune sul tema dei luoghi di culto in città. Tutto questo dopo che il TAR ha confermato lo stop al bando dell'amministrazione sulla segnazione degli spazi, bocciando il ricorso presentato dal CAIM. A Milano ci sono tanti luoghi di culto, anche nascosti, come è normale che ci sia in una città in cui ci sono 70.000 islamici. Ha detto Sala, meglio che siano visibili e trasparenti, quindi in qualche modo ribadisce la sua intenzione di costruire, di istituire più luoghi di culto, però che siano visibili e trasparenti, perché al momento sono tutti illegali, perché non è prevista l'esistenza di una moschea ufficiale appunto a Milano. Adesso passiamo alla moda, è stata presentata oggi, si terrà dal 16 al 26 settembre, Milano Moda Donna. Quest'anno ci sono due novità, una formula nuova e più ampia e anche uno spirito green. Vediamo. Milano Moda Donna è alle porte e la 10 giorni, dal 16 al 26 settembre, sarà l'occasione per promuovere un'idea diversa della passerella, una moda XL, non come taglia ovviamente, ma come ambito da abbracciare e soprattutto green. Partiamo dalla prima caratteristica e lasciamo che a spiegarla sia l'assessore Cristina Tajani che oggi ha presentato l'evento a Palazzo Marino. La nostra volontà è quella di costruire un sistema che veda il momento delle sfilate al centro di un progetto più ampio, appunto che guardi alla pelletteria, agli accessori, al gioiello, ai tessuti, cioè tutto quello che rende il Made in Italy competitivo. Un unico cappello, per così dire, sotto al quale raccogliere una serie di appuntamenti e di sfaccettature della moda, non solo l'abito da far sfilare. Il tutto condito dalla festa della creatività italiana, voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede anche sette installazioni formato gigante che verranno posizionate in città e racconteranno il Made in Italy. E poi, dicevamo, il green. La sera del 24, in chiusura, si terrà infatti alla scala la prima edizione dei Green Carpet Awards, gli Oscar della moda sostenibile. Una novità importante, dicono gli organizzatori, pronti a premiare imprese e stilisti che si sono distinti e impegnati sul fronte ecologico, appunto. Ovviamente restano le Maison pronte a mandare in passerella le loro creazioni per la stagione che verrà, con 63 sfilate, 94 presentazioni e 20 appuntamenti in calendario, per un totale di 159 collezioni. La dichiarazione della Sindaco Sala sulle moschee ha scatenato la reazione dell'assessore all'urbanistica della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi, che ha detto che il Sindaco Sala ha solo una strada a rispettare la nostra legge. Il punto di partenza non deve essere se realizzare piccole o grandi moschee, ma il rispetto delle norme vigenti. In Lombardia, dice la Beccalossi, che piaccia o no, esiste una legge regionale che regolamenta la costruzione di nuovi luoghi di culto. Bisogna dunque partire da lì se si vuole agire nella legalità. La legge regionale, ricorda ancora l'assessore, dice che per realizzare nuovi luoghi di culto bisogna rispettare vincoli urbanistici e procedurali, come la costruzione di parcheggi adiacenti e la conformità alla valutazione ambientale strategica, oltre che a tenersi a una serie di norme di sicurezza. Quindi sicuramente da questo punto partiranno nuove polemiche proprio per questa vicenda della moschea, di cui si continua a parlare da diversi anni, ma che al momento ancora non c'è. Questa era l'ultima notizia. Io vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo, come al solito, dopo la pubblicità. E a seguire c'è Nova Stadio, con Luciano Rindone e Paolo Pirovano, gli ospiti di questa sera. Tra gli ospiti c'è Enzo Gambaro, Gigi Balestra e Riccardo Signori. Con questo è veramente tutto. Mi fermo e vi auguro una buona serata, un buon proseguimento ovviamente con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie.